Questo fatto di queste varianti che preoccupano abbastanza, a che punto siamo intanto direttore con i numeri? Per quanto riguarda le varianti in tutta la Toscana sud-est abbiamo circa una trentina di varianti inglesi e 11-12 varianti brasiliane, concentrate però queste prevalentemente in Valdichiana Senese. Questi sono i numeri delle varianti, i positivi ieri almeno in provincia di Arezzo hanno fatto un piccolo balzo in avanti ma tutto sommato sono dati piuttosto stabili. I dati sono stabili, sono stabili anzi in regresso i dati sulla pressione ospedaliera. Quello che in questo momento è da controllare sono questi piccoli focolai in cui è necessario fare un intervento come stiamo facendo qui a Terranova Bracciolini, un'attività di monitoraggio, sono 1500 circa le persone che abbiamo sottoposto a tampone in tre giorni. Domani parte anche a Sansepolcro, anche lì un focolaio, anche lì avete riscontrato mi pare un caso di variante e poi c'è il confine con l'Umbria. Esatto, lì è una situazione un po' diversa rispetto a Terranova perché è un comune di confine con l'Umbria in cui abbiamo già registrato la presenza di qualche variante, in cui è necessario fare un'attività di mappaggio importante sottoponendo la popolazione su base volontaria a tampone. Sì, li ringrazio per la collaborazione perché comunque 1500 persone hanno aderito ed è molto importante questo screening per individuare in particolar modo coloro che sono asintomatici e quindi magari inconsapevoli portatori del virus. Permettetemi di fare un sentito ringraziamento perché io sono tre giorni ovviamente che sono anch'io qui in piazza a tutti i volontari, gli operatori sanitari, i medici e delle associazioni che hanno permesso di dare questa opportunità alla mia popolazione e alla mia cittadinanza. L'hanno fatto con grande impegno e spirito di servizio gratuitamente e quindi veramente vanno sentitamente ringraziati. Avete già riscontro su qualche positivo? Allora mi dicevano ma sono ancora, ripeto, dati provvisori che hanno analizzato circa 900 prelievi e risulterebbero, ma ripeto va preso un beneficio di inventario perché poi devono fare tutti gli scontri tre positivi, quindi non un tasso di incidenza particolarmente alto, quindi questo è anche rassicurante. Noi siamo stati per mesi sotto l'incidenza media a livello regionale, dopodiché però in 14 giorni abbiamo registrato un incremento significativo, quindi era opportuno e di questo ringraziamo la regione toscana di fare un intervento di questo genere. Poi negli ultimissimi giorni abbiamo registrato invece una flessione rientrando più o meno nella norma, ovviamente magari avremo un piccolo incremento determinato da questi screening di massa, però è assolutamente utile e funzionale all'obiettivo che vogliamo centrare, che è quello di interrompere le catene di contagio.